M obscurzio nel mentre io sto recando minecraft vorrei bestemmiare mamma mia è proprio quella parola 400fps anche se... sto recando ma io... tu vuoi affare in Q? perché il massimo che posso fare è 60 Dio... ma c'è il bioma sborra Con questi launcher per le mod è stracomodo Perché non c'è da Fa forge Perché ce l'ho già tristallato Ma no basta 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 Mi sono rotto le palle Io mi sono rotto le palle Mi sono rotto le palle Ma porca Dopo le mie palle sono scaraventate Giù anche nel nucleo della terra Sono scaraventate Ho spondato tutto anche il terreno Anche la lava Sponda pure la lava Minchia che palle devi aderci Eh palle d'acciaio Coniglio Coniglio Coglione vieni qui Vieni qui Vieni qui Coglione Invece di coniglio E dai Niente vabbè Lasciamo stare Mi sa ho trovato Eccolo C'è sta mod che c'ha un minerale Che ti dà solo xp Tipo strabello Cioè diciamo che non te ne dà molta Però ce ne sono tre tipi Quello con la pietra Quello con la netherratti E quello con l'enzo Flucato la dual Ok Flucato il draghetto Eccolo qua è la stimola Dai vanno Fa zitto Io non mi attesto facendo un rito satanico intorno a un albero Perché stai a fare un rito satanico intorno a un albero di Minecraft Sì Andiamo anche a andare da qualche altra parte Orso Polare Vieni qui Figlio di puttana Orso Polare Orso di merda Vieni qui Ora mi uscire No non mi ha ucciso Mi ha dato due merluzzo crudo Fra mi ha dato due di merluzzo crudo Ok vai Ho recuperato la maggior parte della Questa mi farò una cosa qui e basta Questa mi farò una cosa qui Poissi Non mi disposti Allora Poissi 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 e ma e ma 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 questo è il corso numero carico non ma ma posti di uno come fatto di nuovo scopo a chi ammattola mi chiede lorenzo sono quello che crede di questo senso quello che guarda sempre se la tv o mio dio ho trovato una mineshaft ebbene sì io tengo il volume di tutti e quando devo vedere perché c'è tutto il final di di cosa il principe filippo deve vedere le foto della la regina come roma tristi testi 4 io ho fatto a un'ora in venti merda e dai di cofano scuola scuola ecco che un minuto del video se ne va via no dai se finisco libero lascio poi se usano finisco libero l'intervento susan fammono che onze tutto 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 Nel momento di venire cosa mi prendi palo? sai dove te lo metto il palo a prezzo? in un posto dove uno battitone angolo ma che puede? ma non si possa!! giocata asfalto c'è più carbone che roba utile Oh ecco Il carbone è utile Il carbone è utile alla fine E poi youtube me lo vuole togliere E' utile finchè non ne hai tipo 30 stack No sto recando Minecraft Ma io faccio servizio Io sto recando GD Eh sono Sono su un mondo single player Con le mod Che mod hai installato? E' quella di Minerali a caso Cos'è? Rubino, zaffiro E' un grusy show 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 Grazie a tutti.